Ascensione del Signore! Con Gesù si vola! Il momento dell'ascensione deve essere stato veramente traumatico per i discepoli. Dopo lo shock della croce vedono Gesù che sale al cielo e li saluta. Però in realtà sappiamo che Gesù non abbandona mai i discepoli, ne abbandona mai noi. Sappiamo che grazie allo Spirito Santo potremo incontrarlo. Nell'eucaristia, nella preghiera, nella Chiesa, Gesù è sempre con noi. Secondo, Gesù salutando i discepoli dà a loro la missione più grande, anche più difficile, quella di portare a tutto il mondo il messaggio del Vangelo. È la missione che anche oggi guida la Chiesa, portare Gesù agli uomini. Terzo, sale al cielo. È un po' come quando vediamo un palloncino che sale in aria o passa un aereo sopra di noi. È più forte di noi. Siamo chiamati ad alzare gli occhi, a guardare al cielo. Ecco, Gesù che sale al cielo in fondo ci ricorda proprio questo. Non dimenticarti mai di alzare lo sguardo, di guardare al cielo. Ok Gesù, sguardo in alto. Buona settimana! Grazie a tutti!